Actung, actung, attenzione, attenzione, siete circondati, ripeto, siete circondati, liberate gli ortaggi. 1, 2, 3, 4. Cosa c'entrano le fragole con il pesce artico? Provalo a spiegare ad un bambino di prima elementare e ti dirà che sei pazzo. Pazzi sono gli uomini che giocano a modificare millenni di vita sul pianeta, biotecnologia industriale. Togliete le mani dalla terra, la terra non è vostra, giù le mani dalla terra, giù le vostre mani. La terra è nostra, la terra è nostra e noi la lavoriamo, no GM, no GM, frutti del denaro. La terra è nostra, la terra è nostra e noi la difendiamo, no GM, no GM, la terra noi la amiamo, no GM, no GM, frutti del denaro. La natura non è qualcosa di altro da noi, qualcosa da manomettere, da sfruttare, da usare. La natura siamo noi, siamo noi in ogni albero, in ogni voglia, nel canto degli uccelli, nel primino delle cicale. Siamo acqua, terra, aria.